DMP o CDP? CDP o DMP e il CRM? Dove lo mettiamo? Lo scopo di tutte queste piattaforme è la raccolta e l'organizzazione dei dati del cliente allo scopo di ottimizzare gli investimenti pubblicitari su specifici cluster o audience. Ma e qui sta il punto cruciale. Il dato raccolto e i canali di attivazione riferiscono alla piattaforma a piattaforma. Da una parte la DMP è forte nella raccolta e segmentazione dati di cookie e di device consentendo di migliorare l'acquisizione di un nuovo pubblico simile a quello che già visita il mio sito. Dall'altra il CRM è forte nella raccolta e segmentazione di dati di persone da quando diventano lead a quando diventano cliente consentendo di aumentare la retention e il valore dei clienti nel tempo. La CDP concilia entrambe le istanze. È forte nella raccolta e segmentazione di dati di cookie e di device e di persone. Da quando vengono esposti a campagna pubblicitaria a quando diventano clienti permettendo così di lavorare su segmenti di audience su tutto il funnel. La CDP dunque raccoglie tutti i dati personali dell'utente facendo leva sui comportamenti di navigazione sia sui propri media sia su campagne pubblicitarie in un'ottica di omnicanalità. Se vuoi sapere di più sull'argomento scarica qui l'approfondimento.